Giuseppe Tagliente, Presidente Emerito del Consiglio regionale, ha una lunga esperienza e allora cosa manca dal suo punto di vista a questo Consiglio regionale eletto nel 2008? E' merito, sono ancora consigliere regionale quindi l'ex merito lo rinviamo ad un'altra età più a lungo possibile, ma a parte le battute che cosa rimproverano? Non rimproverano niente, ogni Consiglio regionale è figlio del suo tempo e quindi è una proiezione della politica attuale con tutto quello che ha di bianco e di nero, di luce ed ombre, per la verità più nero e più ombre che luce e bianco rispetto al passato. Ma questa è un po' la situazione in cui si trova tutta la politica italiana in questo momento. Non aggiungerei di più evidentemente, anche perché non voglio essere cattivo. Prima Repubblica, Seconda Repubblica e forse adesso si parla di Terza Repubblica, ma come deve essere la Repubblica secondo Giuseppe Tagliente? Speriamo che si vada verso la Terza Repubblica. Vi sono tutti i segni, i segnali che fanno capire che ormai un capitolo si è chiuso e che qualsiasi ritorno, ritorno a qualsiasi riedizione non può avere un lungo respiro. Chi lo pensa, ahimè, si sbaglia, conosce poco la storia. Conosciamo la storia di Napoleone dopo l'Elba e sappiamo com'è andata a finire, insomma, nonostante gli entusiasmi che lo sbarco a Tolone aveva potuto suscitare dopo l'esilio dell'Elba. Speriamo che si vada verso una nuova fase. È un momento delicatissimo quello che stiamo attraversando. Molto dipenderà chiaramente anche dal tipo di sistema elettorale che il Parlamento, che le forze politiche sceglieranno di fare. Io mi auguro che osservino la massima cautela e soprattutto siano animati da molto disinteresse e tengano presenti quelli che sono i problemi grossi, reali, concreti del Paese, dell'Abruzzo nella fattispecie. Oggi in Consiglio regionale abbiamo discusso anche a lungo sulla situazione occupazionale che in questo momento attanaglia un po' tutta la regione Abruzzo. Vi sono state diversità di vedute, due documenti, l'uno diverso dall'altro, ma entrambi alla ricerca di una soluzione che mi pare non vi sia ancora. Ma comunque anche oggi, soprattutto oggi, ho colto nel Consiglio regionale, nel corso del dibattito, elementi di preoccupazione reale e un peso della responsabilità che fino a qualche tempo fa non mi pareva di individuare e di ravvedere. E come deve essere la Repubblica? Mi chiedeva. Beh, insomma, è una domanda difficile a cui rispondere. Beh, insomma, deve essere, come dire, deve essere fondata soprattutto, secondo me, sulla ricerca del bene comune e sulla volontà di non abdicare a quella che deve essere la sovranità dello Stato e quindi del popolo. Ecco, credo che siano questi, voglio dire, gli elementi di discussione che devono essere di discussione. Nella Prima Repubblica, a tempi diversi, evidentemente, si parlava degli stessi argomenti. La sovranità era una sovranità limitata rispetto alle grandi potenze, al mondo diviso in blocco. Sul bene comune vi erano riferimenti più chiari. Nel corso del tempo la sovranità limitata è diventata perdita di sovranità, soprattutto di sovranità monetaria, come stiamo vedendo in questi giorni, e abbiamo perso il concetto di bene comune. Dobbiamo riscoprire, speriamo che la Terza Repubblica recuperi a sé questi due concetti che sono importanti per la politica. Per la politica serve soprattutto il coraggio. Lei ha fatto più di una volta appello proprio al coraggio della classe di governo per delle scelte che, anche all'apparenza, possono sembrare impopolari, ma necessarie. Qual è la prima scelta che andrebbe fatta in Consiglio regionale, secondo Giuseppe Tagliente? Guardi, non c'è dubbio che deve animare il senso di responsabilità. E la concretezza poi deve accompagnare l'azione di governo e l'azione della politica. questo va premesso. Che cosa guardiamo a quello che sta accadendo oggi, insomma. Guardiamo soprattutto a una politica che non fa sintesi, ad una politica che è troppo conflittuale, a una politica povera di idee. Guardiamo, dicevo, a quanto si va discutendo in queste ore riguardo o a seguito dell'annunciata abolizione delle province. Se vi è un limite nella capacità della politica locale, ma non è limitata solo all'Abruzzo, il discorso poi pari pari può essere riproposto, magari per altri versi, anche per altre situazioni, ma se c'è in Abruzzo un elemento che fa una fattispecie, comunque che fa ritenere quanto la politica sia povera di idee, è proprio il dibattito che si sta sviluppando in questi giorni. sindaci, insomma, tanto per riprendere il discorso di Napoleone, ma Napoleone da manicomio in questo caso, sindaci che firmano proclami, presidenti delle province che parlano di annessioni di altre province. C'è qualcuno che addirittura ipotizza lo spacchettamento dell'Abruzzo in due zone tagliate a metà, una sorta di Abruzzo che guarda sul mare e un altro Abruzzo che guarda verso la montagna, voglio dire, discorsi che veramente lasciano stupiti per la povertà, non voglio dire la stupidità, ma proprio per la povertà. E anche per il ridicolo, insomma, che poi questi discorsi alla fine portano, c'è nessuno che, quindi la politica, che non riesce a pensare quale può essere una ipotesi di riforma della organizzazione amministrativa della regione, una riforma organizzativa della regione di cui c'è necessità e bisogno, ma non da oggi perché Monti ha deciso all'improvviso di abolire le province. Magari ha avuto il pregio o il difetto, a seconda dei punti di vista, di accelerare i tempi di una discussione o di una decisione, ma è un problema che l'Abruzzo si trascina avanti da 30 anni, cioè quello dello squilibrio tra le zone della costa e delle zone interne, quello delle diseconomie, quello degli sprechi, quello dei doppioni, tanti tribunali, tanti ospedali, tante università, voglio dire, no? Rispetto ad un Abruzzo che, voglio dire, è una regione di un milione e mezzo di persone che necessita di ritrovare una modalità di convivenza nuova che, a mio avviso, necessita, per uscire dal generico, di risolvere, sciogliere finalmente il nodo di Chieti-Pescara per fare di Chieti-Pescara un'unica città metropolitana. Oggi si parla di città metropolitane nel dibattito in corso a livello nazionale che approderà in Parlamento fra qualche giorno, beh, insomma, nessuno che abbia, quando dico nessuno, dico un'istituzione, in questo caso, la regione dovrebbe essere chiamata a fare questo, che voglia inserirsi in questo dibattito per proporre la città metropolitana di Chieti-Pescara e di risulta, conseguentemente, ridisegnare tutta una regione, tutto un assetto amministrativo, istituzionale. Questo, voglio dire, limita sprechi, limita diseconomie, marginalità, tutto questo può ridare alla regione un senso della modernità, un senso proprio di appartenenza che purtroppo sta perdendo. Noi stiamo perdendo l'Aquila, voglio dire. L'Aquila è il capologo della regione che ormai è diventato l'estrema periferia di Roma. Noi rischiamo di perdere tutta la Marsica che scivola verso il Frusinate. C'è Sulmona che si impoverisce sempre di più insieme alla Valle Pelini. Ecco, c'è la necessità, voglio dire, di rimettere mano a questo meccanismo che non è soltanto di tipo istituzionale, non è soltanto un giochetto, no, di mettere il pennacchio a questo o a quella città, ma è un disegno che organicamente considerato può disegnare un Abruzzo che marcia a una velocità diversa dai sistemi prefigurati addirittura nell'Ottocento e che oggi evidentemente non possono più funzionare. Ecco, la politica ha bisogno di recuperare a sé una capacità progettuale e una visione che purtroppo oggi non ha. Lei non ha mai avuto peli sulla lingua, questo l'ha un po' frenata nella sua carriera politica o l'ha aiutata? No, mi ha dato sempre tante fregature per la verità, ma insomma ognuno è fatto come è fatto, insomma, quindi su questo non c'è dubbio, insomma. In tema di sincerità, da consigliere esperto delle istituzioni, che pagella darebbe Giuseppe Tagliente alla maggioranza e all'opposizione e perché no anche al governo regionale? Non darei la sufficienza a nessuno, a nessuna delle parti che lei ha evocato. Qualche però, qualche alunno meritevole ci sarà? Ci sono sempre le eccezioni, adesso non mi dica quali, ci sono delle intelligenze che vedo sia nella minoranza che nella maggioranza, anche in Giunta, c'è qualche intelligenza che va rimarcata, ma il giudizio ovviamente si dà nell'insieme evidentemente poi nella politica che poi il giudizio che dà la gente, insomma, non si limita evidentemente all'eccezione, ma è un giudizio che evidentemente coinvolge tutto, questo è il bello e il brutto della politica, insomma. Torniamo a Bomba come direbbe Silvio Spaventa nel quale lei è un grande estimatore. La zona del Vastese, San Salvo, Vasto, soffre in questo momento di una crisi economica molto molto importante con insediamenti produttivi storici e di grandi dimensioni che non riescono più a tenere il passo con una competitività globale. Quale potrebbe essere una ricetta per uscire da questa crisi? Ma ne ho parlato appena stamattina in Consiglio regionale intervenendo in questo dibattito. Allora io non limiterei la crisi soltanto al Vastese dove vi sono segnali di preoccupazione certamente ma che non hanno ancora raggiunto un loro livello di pericolosità. Parlerei della zona del Sangolo invece che mi preoccupa molto di più perché l'appena l'altro ieri hanno chiuso in Francia uno stabilimento importante di Peugeot mandando a casa 8.000 operai lei sa che Sevel è una consociata Fiat Peugeot Fitroen e credo che insomma bisognerebbe stare molto attenti a una come dire a un'ondata di ritorno a uno tsunami che coinvolga anche l'Abruzzo quali possono essere in generale insomma perché è chiaro la Val di Sangro era un problema dico la Val di Sangro perché la Val di Sangro rappresenta il pilastro dell'economia industriale abruzzese con i suoi 7.500 addetti il vastese ne ha complessivamente 3.500 4.000 ma voglio dire insomma è meno importante sotto questo profilo dell'industria del del sangro ecco perché ho voluto evocare portare ad esempio il sangro che effettivamente insomma presenta aspetti di grandi allarme di cui nessuno sta parlando ecco perciò ho voluto anche dirlo stamattina in aula e di che cosa ha bisogno per quanto possa si possa fare perché è evidente che la crisi è più generale ed europea e di tutto l'occidente l'economia si è spostata si va spostando dall'occidente verso l'oriente voglio dire il centro dell'economia nei prossimi anni vedremo tramontare definitivamente il sistema atlantico come qualcuno l'ha definito beh che cosa si può fare a fronte di questa di questa crisi a fronte di un'Europa che funziona a fasi alterne di una sovranità monetaria che sfugge al controllo delle nazioni addirittura affidata a dei privati perché la BCE è in mano a dei privati anonimi ma pur sempre privati che cosa si può fare beh io direi innanzitutto cambiare mentalità io lo dicevo stamattina cercare di trovare va di modo a dirlo voglio usare questa espressione tanto per farmi capire anche se non mi piace un tavolo di lavoro nel quale siedono tutte le parti sociali ma con uno spirito diverso non facendo lo scaricabarile come insomma è diventata abitudine fare c'era un bel articolo di Galli della Loggia in questo in questo senso qualche giorno fa sul Corriere della Sera non come fanno i sindacati che continuano a puntare il dito contro gli altri come se loro fossero umuni qui bisogna fare un auto da fe un atto di contrizione da parte di tutti sedersi intorno a un tavolo e cercare di cambiare la mentalità il che significa anche tentare di cambiare stili di vita e di lavoro che ormai si sono incardinati da più di 50 anni non è facile ma il tentativo va fatto e credo che sia il primo passaggio quando sentiamo di scioperi alla Sevel che vengono proclamati soltanto per consentire ai dipendenti di andare a vedere la partita della nazionale quando registriamo così come ho registrato qualche giorno fa studiando di queste cose che il livello di utilizzazione dell'impianto di dell'impianto Sevel di Val di Sangro è del 33% il livello di utilizzazione significa proprio di utilizzazione vera dell'impianto del 33% a fronte del 67-68 degli stabilimenti della Fiat in Polonia quando leggo che un parabrezza per venire al discorso della Pilkington ex Siv di Vasto costa 12 mila pardon 12 euro in Polonia e 24 costa qui in Abruzzo beh allora insomma voglio dire dobbiamo farlo questo appello a un cambiamento del sistema di vita del sistema del sistema da lavoro questa è la prima cosa poi certamente non è questa evidentemente sufficiente insomma non è come insomma sufficiente soltanto fare i tagli o cambiare delle mentalità poi migliorare il sistema infrastrutturale noi siamo indietro da questo punto di vista noi non abbiamo nel momento in cui si sono riattivate le grandi vie di comunicazione noi siamo fuori dalle grandi vie di comunicazione siamo fuori dai come dire siamo fuori dai corridoi europei di traffico e di comunicazione siamo fuori dalle nuove direttrici oggi licenziate approvate dalle ferie dello Stato che partono da Bari vanno verso Napoli saltando a più e pari tutte le regioni dell'Adriatico oggi siamo fuori da qualsiasi tipo di discorso che riguardi la utilizzazione la piena utilizzazione dei porti io sono anni che sostengo per esempio che bisogna creare un sistema integrato dei porti abruzzesi nella provincia di Chiti abbiamo Ortone e Vasto è mai possibile che non si riesca a trovare un sistema organico sinergico che faccia funzionare l'uno e l'altro in una visione unitaria che io sposterò addirittura fino a Termoli insomma per cercare di creare un porto che sia un porto voglio dire atteso che nei canali di traffico europei il primo porto che viene preso in considerazione sul versante Adriatico è quello di Ravenna tutti quanti compresa Ancona non esistono sono stati espulsi fuori da una visione progettuale futuristica quindi voglio dire queste sono le cose da fare le autostrade vanno rinnovate la strada ferrata le infrastrutture su ferro siamo indietro da questo punto di vista i vettori come San Gritana che possono dare una mano in questo senso cercando di colmare quegli spazi che non copre le ferrovie dello Stato dovrebbero essere incentivate incentivate insomma anche mediante appositi finanziamenti a fare certe cose ma i FAS ma il discorso dei FAS fino a che punto l'Abruzzo sta utilizzando questi fondi per il sottosviluppo è la domanda che io quotidianamente rivolgo a Chiodi si parla di FAS si parla di utilizzazione si parla di però insomma devo dire che fino a questo momento le risposte da questo punto di vista non sono state soddisfacenti anche se io ripeto che manca a monte questa visione progettuale che è la premessa poi per l'utilizzazione perché puoi spendere a pioggia come si dice oggi o a macchia di ropardo come dicono altri questi soldi non servirebbe a nulla si sono stati spesi nel passato secondo queste modalità credo che oggi bisogna cambiare indirizzo recuperare anche qui all'Abruzzo ecco delle sue peculiarità cercare di riportare l'Abruzzo come dire non dal sud come ha detto qualche tempo fa il presidente Chiodi ma riproiettarlo verso il nord dove aveva insomma si era guadagnato qualche 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 spazio ecco questo secondo me insomma è un cammino difficile irto di 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 insidie ma è il cammino che l'Abruzzo deve fare che la classe politica deve fare per accompagnare l'Abruzzo verso il futuro uno sforzo proprio come dire di di progettualità di studio altrimenti non si va da nessuna parte insomma per concludere quale schieramento vorrebbe vedere da una parte e dall'altra Giuseppe Tagliente alle prossime elezioni politiche e alle prossime elezioni regionali cioè quali candidati vorrebbe vedere correre per il Parlamento e magari anche per la Regione in un duello che che porti soprattutto le idee al primo posto lei è in grado di dirmi i nomi di tutti i deputati abruzzesi e dei senatori penso di no penso che se scendiamo in piazza e chiediamo a un qualsiasi cittadino ci dica quali sono i nomi dei nostri deputati nessuno sarà in grado di rispondere probabilmente arriveranno a uno a due ma la lista completa come un cittadino abruzzese sarebbe stato capace di dare 20 anni fa 15 anni fa oggi non lo troveremo cosa voglio dire voglio dire che quello che mi auguro è che la politica sappia recuperare se stessa le energie migliori che ci sono in Abruzzo a destra e a sinistra al centro che vi sono le energie migliori capaci di suscitare altre energie nella classe imprenditoriale ammesso che vi sia nella cultura io in Abruzzo vedo un mondo della cultura che non esiste che perlomeno in termini di incidenza che è autoreferenziale ma che non è di supporto né alla politica né al mondo imprenditoriale ecco quello che mi auguro io è una politica che susciti tutte quante queste energie in Abruzzo e sia capace così di avvicinarsi sul serio ai problemi dell'oggi ai problemi del quotidiano che sappia per recuperare un luogo comune fin troppo ormai abusato veramente avvicinarsi ai problemi del cittadino